E' chiaro che i ragazzi che sono arrivati fino a questa fase sono tutti molto bravi, non ci sono dubbi. Adesso si tratta di valutare un po' tante cose, fortunatamente ognuno di loro ha una caratteristica diversa sia come genere, come canzoni, come modo di cantare. Adesso noi già ci siamo fatti un'idea di massima, è chiaro che... Poi giudicare la parte dei cantautori non è sempre così semplice. Non è semplice no, perché non ha i punti di riferimento, sono canzoni loro, ognuno ci mette del suo. E' chiaro che purtroppo qualcuno magari si dovrà eliminare, però al di là del fatto che sono tutti bravi abbiamo già più o meno individuato delle caratteristiche che secondo noi sono importanti. Bene, allora adesso andrete in sala audio per ascoltare le cinque performance. Grazie, grazie mille, buon lavoro.